buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di missioni ruolo mobilità annuale incariche supplenze ci sono in ballo 200.000 posti prima domanda quando sarà reso noto il contingente per le missioni ruolo dell'anno scolastico 2023 2024 e su quali posti si potrà contare alla il contingente per le missioni ruolo 2023 2024 sarà reso pubblico con suddivisione per regione province classi di concorso intorno tra l'undici e il 17 di luglio i posti disponibili saranno quelli vacanti dopo la mobilità territoriale professionale dell'organico dell'autonomia cioè tutte quelle cattedre o di potenziamento o cattedre diciamo normali al 31 agosto 2024 i posti vacanti disponibili dell'organico dell'autonomia saranno circa 90.000 posti 90.000 cattedre domanda numero 2 quando saranno pubblicate le graduatorie per le utilizzazioni assegnazioni provvisorie e quando saranno assegnati i posti per la mobilità annuale allora le gradatori di utilizzazione assegnazioni provvisorie saranno pubblicate in date differenti per singolo ufficio scolastico provinciale c'è comunque una data di massima che prevede la pubblicazione di tale gradatore entro il 25 di luglio in modo da poter vagliare poi eventuali ricorsi e assegnare i posti nella prima settimana di agosto terza e ultima domanda la scelta delle 150 preferenze per gli incarichi e le supplenze da gae e gps quando verrà effettuata e quanti posti ci saranno a disposizione appunto per gli incarichi e le supplenze come abbiamo già detto sembra confermata l'ipotesi molto probabile che la scelta delle 150 preferenze per gli incarichi e le supplenze da gae e gps venga effettuata dal 18 di luglio all'uno di agosto data chiaramente presumibile non ancora ufficiale i posti in organico di fatto saranno circa 100 mila che si andranno ad aggiungere per gli incarichi e le supplenze ai posti in dell'organico e la autonomia non assegnati al ruolo cioè non assegnati neanche dopo la fase della call veloce speriamo che queste risposte siano utili al nostro pubblico al nei nostri telespettatori seguitici ancora su queste su questi argomenti anche su altri argomenti sia nel nostro sito www.techinielascuola.it ma anche nei nostri canali social facebook e youtube dove andranno anche in onda delle dirette interessantissime su argomenti di estrema attualità arrivederci e alla prossima